Santa Barbara Veneratissima in tutto il mondo, Barbara è una figura caratterizzata da numerose leggende. Nata a Nicomedia in Bitinia nel 217, bella e ricca fu promessa in sposa al prefetto romano della città. Il padre, per impedire la sua conversione alla fede cristiana, la fece rinchiudere in una torre da cui uscì per miracolo. Subì il martirio per mano del padre che le tagliò la testa cadendo a terra subito dopo incenerito da un fulmine. I suoi resti sono oggi conservati nella chiesa di San Giovanni Evangelista Torcello. È invocata contro la morte improvvisa, protegge i vigili del fuoco, gli artiglieri e i pirotecnici, è patrona di Rieti.